Tutti negativi gli indici di piazza affari e degli altri principali listini europei si salva dalle vendite in Madrid. Tra i best performers di Milano si distinguono poste italiane, UbiBanca e Italgas. I più forti ribassi invece si verificano su Saipem che continua la seduta in calo dell'1,43%. L'oro continua la seduta sui livelli precedenti, riportando una variazione pari a meno 0,17%. Tra i dati macroeconomici più importanti arrivano segnali di miglioramento del sentiment degli investitori in Europa, mentre le vendite al dettaglio dell'area euro sono ancora in calo a febbraio. Nel pomeriggio sono attesi gli ordini industriali dagli USA e le spese dei costruttori dili dall'Australia. Attesa una partenza incerta per la borsa di New York, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA, che scambia 5.363 punti.